Sono gravi ma stabili le condizioni dei due operai della TCA di Castelluccio rimasti coinvolti nello scoppio di un forno all'interno dell'azienda retina specializzata nelle affiniture a metalli. AR di 34 anni, TS di 41, entrambi di Arezzo, sono ricoverati al centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa. La prognosi rimane riservata, il 41enne desta minori preoccupazioni e ustionato nel 30% del corpo, il 34enne invece ustionato nel 60-70% del corpo verrà sottoposto presto ad una delicata operazione chirurgica. Entrambi però non sono fuori pericolo. Nel frattempo la procura retina ha aperto un'inchiesta coordinata dal PM Andrea Claudiani per ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere se vi siano o meno responsabilità penali. Vigili del Fuoco e ASL hanno eseguito dovuti accertamenti. Sotto la lente ci sono le misure di sicurezza adottate dall'azienda. Numerose le testimonianze raccolte in queste ore dai carabinieri del comando provinciale di Arezzo. Un incidente di questa gravità in 40 anni di storia di questa azienda non si era mai verificato, ci aveva detto il sindaco di Capolona, Alberto Ciolfi, arrivato sul posto appena avuta la notizia. Commenta quanto avvenuto anche la CGL a retina, soltanto tre gli iscritti su 120 dipendenti, un'azienda quindi di fatto non sindacalizzata. Nel 2016 non possiamo assistere continuamente a questi tipi di infortunio e soprattutto vedere un clima così generalizzato di omertà e di timore referenziale, soprattutto quando vediamo compagni di lavoro che in questo momento si trovano in un letto d'ospedale in condizioni del quale non sappiamo nemmeno bene come ne usciranno.